Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Red Clips Allora Play online Andiamo avanti a gente Ah, c'è una partita Oh, catturare la bandiera ma sulla stessa mappa, no? Quanto adoro rubare la bandiera ma Sulla stessa mappa, insomma E' strano C'è sto deathmatch Non c'è orario Strano sta cosa C'è una persona Forse sta scegliendo E' strano Vabbè Vediamo un po' che cos'è Cosa sta succedendo Center questa l'ho già giocata E' una mappa Anche questa gli piace tantissimo Molto bella E' perché è grande Puoi girare parecchio Bella, bella Mi piace Fatta bene, insomma Allora Strano sta scritta Mi hai visto prima? Boh Vabbè, tutto bo Strano che ci siano i numeri e i bot Di solito ci sono i nomi C'è un'altra persona Vabbè Io alfa, ovviamente Come sempre Oh 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 Sono diventato moderatore Ma per la miseria Cazzaro l'ho pigiato Come si fa a levare sta cosa? Io non volevo essere moderatore Se non lo sbaglio Se non lo sbaglio Mi si leva Forza la miseria Wow Che è successo? Questa cosa è nuova Non so se l'hanno messa Nella nuova versione Non lo sapevo che si poteva fare Anche questa visuale qua Vabbè Vabbè teniamo questo Ma giusto per cambiare Ah fantastico Fantastico È un po' scomoda Perché poi Abituandosi Sempre a una Ha un tipo di Di visione Insomma no? Stranissimo Va bene Ok Diciamo che va bene Vabbè Praticamente è un Let match Vabbè Ah tutte le armi Non lo so È strana Sta partita Mi sembra una specie di Tutorial Qualcosa Di simile Insomma Perché mappe Con tutte le armi Non avevo mai visto Che forte Ecco Queste che stanno Sulla Sulla destra Sono tutte le armi Che si possono Avere Prendere Fare Questo è bella Il lanciapiamme Già è stato L'ho usato E già Ho usato Un altro Di soli E quindi Quando c'è Tutta sta gente Bella raggruppata Funziona bene E' stranissima E' stranissima Questo visuale E' stranissima E' strana Rivedo Non lo so Se c'è sempre Stato E' stranissima E' stranissima Che poi Succedono Queste cose Insomma Si scoprono Cose nuove Comunque Comunque non è a tempo E' per quello Che allora All'inizio Non diceva E ripeto Questo tipo Di cosa così Non l'avevo mai visto Cioè senza tempo Con tutte le armi Non voglio mai Io non volevo Diventare moderatore Stavo uno sbaglio Vabbè Mamma mia Ok Ma ci derò un po' di rossi Ma se no E' proprio E' bella In realtà Bella Ti dà sta possibilità Insomma Di muoverti Questa è l'arma nuova Sparafulmi Fa strano Vederlo Sinceramente Impressione Però è buono Perché ti dà Una visione Pure di giccia Di fianco Le granate Queste si allumina Aristola La spada Eh si ritorna Allo Ok Mamma mia Quanta gente Anzi Quanti botti Gli altri Ma Stanno sparando Da dove Bello Premendo Tasti a caso Si imparano cose nuove Dai Vabbè Mi ha il massauro Perchè Questa partita Si capisce Una mazza Una al sole Fa di più Si capisce Ancora Tanto mi dimentico Di dare l'anticipo A questi Questo è il problema Di Dimenticanze Metticoletiche Mi sto facendo Fuori In bel pomato Vedete Io Come ho detto Questa altra volta Deathmatch Non mi piace Questa volta Mi sta piacendo Non so perché È strano Magari Vedete Se si riuscita La ultima parte La strage Che è successo negative Grazie a tutti Scri véi non si capisce niente non sai su chi ti devi concentrare perché va se si sposta di poco non sai più se è quello che stavi colpendo prima o un altro non è più uguale non è più simpatico non guarda che si stanno tutti equalizzando contro di me non guarda niente sai ma non vuoi non mi va sto usando tutte le armi non vuoi tutte le armi un attimo di respiro no sta mappa mi piace perché ti lascia comunque possibilità di manovra mappa è grande una brigola praticamente non c'è non c'è neanche la possibilità di muoversi almeno qua c'è spazio si può girare a manetta cioè questo è un deathmatch infinito praticamente mai mai giocato questa prima volta che lo vedo tutte le armi sembra una specie di tutorial non lo so di addestramento di qualcosa io mi blocco non mi blocco non mi manca che è successo questo rosso per un attimo e vabbè mille contro di me va bene vabbè così tutti siamo bravi aiuto ecco no matta di nuovo no è passato di fianco è passato di fianco io non l'ho riconosciuto ma non mi ha sparato neanche lui assurda sta cosa che belli il bot fanno tanta simpatia fanno proprio simpatia e tenerezza qua qui qua sto bloccando tutti vabbè è passato di fianco mamma mia casino ne sto uccidendo sono cose che danno soddisfazione diciamoci la verità anche se sono bot non sono soddisfazione comunque 168 punti devo morire adesso devo morire mi sono adesso ma sparita parca la misetta ho perso vabbè che è successo? mi dimentico di dare l'anticipo ogni tanto parca la miseria 4, 5 si si tutti qua tutti oddio 15 parca la miseria aiuto non mi ripesano non mi ripesano la miseria qualcuno che mi sta dando una mano meno male cacchio erano 5 su di me già 2 su troppi i 5 sono proprio esagerati 5-6 quanto caspita erano 30 va bene vi saluto adesso dato che sono prima con 36 punti perché se non sta partita non finisce mai vi saluto e ci vediamo al prossimo video non so come sarà ciao e alla prossima e alla prossima